E siamo qui perché c'erano dei problemi amministrativi e quindi il collegio dei consultori è chiamato a dare un parere al Vescovo su questi problemi. E poi, no, nessuna rimozione. E poi il Vescovo ha comunicato la nomina di un coadiutore che lui stesso ha chiamato. Sì, sì, glielo confermo subito perché non è pubblica. Allora, Guglielmo Borghetti, al presente Vescovo di Pitigliano, Sovana e Orbetello. Quindi adesso cosa succederà? Niente. Il Vescovo ha un aiuto in più. Il Vescovo è il Vescovo, quindi è il pastore di questa diocesi. Il coadiutore è un aiuto che gli viene dato per quello che il Vescovo non può fare, per ovvi motivi. Ecco perché quando nella Chiesa si dà un aiuto a una persona, è segno che quella persona, o perché passano gli anni, o perché ha degli altri problemi, o perché ha un eccesso di lavoro, ha bisogno di avere un aiuto. Ma un coadiutore non è un commissario, non è a tutt'altro. Penso come l'ha trovato dopo il piccolo anno di Natale. Ma quel malore era semplicemente un'influenza. sta benissimo, è sereno, sta bene e gli siamo riconoscenti per tutto quello che ha fatto in questi anni e continuerà a fare. Grazie, arrivederci.